Hai mai rinunciato a un impegno importante per vedere una partita? Sì, fino a qui veramente ho avuto tantissimi impegni, ma io a una partita specialmente allo stadio non rinuncio mai. Hai mai fatto una pazzia per l'Inter? Sì, prendere tutti questi voleri. Hai mai smesso di vedere una partita prima del novantesimo? No, mi garba a vederle fino alla fine, la squadra ha seguito fino all'ultimo. Hai mai avuto un'esultanza esagerata per un gol? Sì, sono quelle un po' le vittorie dove esulti di più, quelle sempre un po' più difficili da arrivare, però alla fine sono quelle che poi ti fanno gioire più di tutti. Hai mai utilizzato un amuleto per entrare in campo? Sì, quando ero nei ragazzini dell'Empoli mi sono fasciato il polso, fino al 2010 che ho fatto l'ultima mia partita da cacciatore, ho avuto sempre prima della partita mettermi polsino con questo scotch bianco.